ciao salve a tutti sto confezionando imbarattolando alcune delle nuove flore 2023 questa un bellissimo mille fiori 2023 con molta presenza di acacia marasco ciliegio e lilla il tarassaco il ciavardello è un mille fiori per la maggiore c'è acacia poi ci sono parte di queste flore e con il rovo e la tetradegna le altre fioriture che vi ho mostrato il tiglio sono andate poi a completare queste e questi straordinari melari e adesso poi rivedremo le percentuali di umidità a prodotto finito colore è bellissimo di questa flora poi ci sono altre adesso vediamo alcuni campioni questi sono altri campioni vedete portan colore diverso sono flore diverse infatti sono già tre varietà manca l'ultima la quarta si ottiene come ho cercato di spiegarvi dalla biodiversità qua del mio territorio queste tre quattro varietà anche se si ha più flore e poi le api raccolgono in base ci sono melari e melari vedete bellissimo colore questo ambra dorato molto chiaro perché c'è un'elevata concentrazione di acacia nonché rovo e poi tiglio e qua stessa cosa adesso queste sono fioriture queste proprio adesso del momento quindi rovo tiglio marruco e sambuco e trifoglio e quelle altre fioriture che vi ho mostrato questa invece un po più primaria adesso andiamo a vedere le percentuale di umidità di queste queste sono campioni ve l'avevo già mostrate comunque sono tra il 16 e 6 il 17 17 è un punto adesso però stanno riposando questi sono riposati da qualche settimana vediamo la percentuale ecco qua andiamo a vedere la percentuale di umidità a prodotto finito ecco questa è una varietà che va credo 17 16 e 9 sì 16 e 9 16 e 8 eccola qua sì è sufficiente è abbastanza nitida 16 e 9 16 e 8 adesso ha riposato pochissimo quindi vediamo adesso finirà il riposo nel barattolo al barattolo finirà il riposo e andrà al 16 e 6 come cerco di di spiegarvi e dimostrarvi eccola là ma è un 16 e 8 sì 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 vediamo una riguardo eh sì è un 16 e 7 un 16 e 7 con la di precisione vediamo se inquadro un po meglio è 16 e 7 infatti c'è con l'obiettivo qualcosa poi va a sballare con l'obiettivo dei telefoni eccola la vedete è un 16 e 7 questa percentuale bene sono queste le percentuali adesso come ho cercato di rammentarvi che variano dal 16 e 6 eccola lì adesso si vede benissimo eccola qua è bloccata come si deve vedete sotto al 16 e mezzo 16 e 6 come cerco di rammentarvi come cercavo di rammentare anche a Claudio che senza ricorrere a spese in più ulteriori spese per deumidificazioni e quant'altro si otterranno flore straordinarie deumidificate dalle api sono veramente straordinarie adesso sto andando a imbarattolare una piccola parte del prodotto così anche per testare alcune flore alcune percentuali di umidità e poi cercherò di mostrarvele come vi ho rammentato e confrontandole come vedete tra flore ottenute questa stagione flore ottenute le altre stagioni con le varie percentuali che più o meno sono queste siamo quasi lì questa è stata una stagione molto umida lo è tuttora lo è stata in maniera particolare durante questi raccolti delle api e per fortuna ma questo loro riusciranno nella loro deumidificazione nelle loro straordinarie tantomeno ricariche nido e alveare se gli verrà consentito e tantomeno se ci si va a sincronizzare in modo corretto sia con la biodiversità sia con le api in sé per sé bene adesso procedo oltre purtroppo ho solo una mano per adesso vi ho mostrato parte di flore parte di smelate ancora stanno arrivando delle altre arriveranno flore più o meno il livello sarà questo di intensità di scurezza adesso perché c'è parte di castagno e poi cercherò di mostrarvi anche gli alveari vediamo vedete qua ho adesso sto stivando altro prodotto con altre percentuali e qua è un altro melario vedete ho liberato il melario l'ho scaricato qua e ho ridato il melario alle api quindi questa è un'altra parietà ancora che porta un 17 e 2 quelle percentuali che vi ho sempre mostrato queste sono quelle più alte rilevate adesso il 17 e 2 quello che vi ho mostrato in parte sono quelle percentuali più alte sono quelle là e poi si ha come avete visto un 16 e 6 un 16 e 4 poi alcuni favi portano il 15 poi dopo di che smelati perché ci sono alcune flore che portano concentrazioni di umidità maggiori altre minori e quindi anche dopo dei umidificati dalle api mantengono questa percentuale e mischiati poi assieme vanno a portare una percentuale finale comunque straordinaria perché il 17 16 e 16 ma scenderanno ancora queste altre comunque sono queste già di adesso tutto ottenuto dalle api sono percentuali straordinarie straordinarie bene per adesso un saluto perché purtroppo ho solo due mani ce ne vorrebbero molte di più ve lo posso assicurare per portarsi avanti il lavoro da soli io sono solo ho diversi melari da smelare ho diversi alveari da controllare e visitare perché non si visitano solo per le celle si visitano anche per lo stato di salute vedete per esempio ho tolto ho fermato tre alveari e li sto preservando ho tolto i melari le ho smelati anche se portavano favo disopercolato perché c'era percentuale di umidità che lo consentiva e tantomeno perché le ho fermate le dovevo fermare e hanno tantomeno adesso ricaricato ancora meglio il nido stanno meglio loro perché hanno calato il numero perché sono quelle che si proteggono un po' peggio e allarghe allargo in tutta la struttura compreso il melario non va bene si devono ristringere infatti le ho ristrette a 10 favi e tra un po' probabilmente andranno anche a 9 ulteriormente e questo le aiuta già questo nel ripulirsi nel potersi ripulire poi vedrò di togliere la regina come vi ho sempre raccontato la regina madre far sparfallare e trattare con ossalico questo è il migliore intervento migliore di tutti e dopo di che si può intervenire con altre tipologie di trattamenti in altri modi ma ve le mostro chiaramente le vedete chiaramente le api livello produttivo che hanno livello di scorte che hanno e quanto e come sono contaminate dalla varroa facciamo sempre le corna e incrociamo le dita pochissimo ci hanno quella per convivenza e le aiuto con queste formalità cercherò poi di mostrarvi che le aiutano queste formalità che le aiutano tantissimo vedrete poi loro guarite dal tremore ma al di maggio l'avete vista nel travaso parte di quella famiglia che ancora si è sviluppata ulteriormente che è in arnia nuova e vedrete poi l'altra la colonia su otto favi che è straordinaria straordinaria vi mostrerò loro riprese dal mal di maggio nonché ripulite dalla varroa bene un saluto a tutti per il momento apicoltura pe matta grazie a tutti per la visione grazie a tutti per la visione grazie a tutti per la visione